Ciao a tutti amici, ciao Mario, ciao Elisa, il meteo fino il 20 di aprile, circa, circa, ma cos'ha in mano? Dei fiorellini, e offriamoli ai nostri amici, i fiori, la primavera, dai, belli questi fiori, cosa credete, i fiori ci sono solo al centro e al sud, solo a Roma e Napoli, anche noi di Milano abbiamo i fiori, sapete? Vabbè, detto ciò, allora azzardiamoci queste previsioni fino all'incirca il 18 aprile, arriva l'anticiclone africano, quindi attanaglia tutta l'Italia con caldo pure, perché le temperature potranno raggiungere 25 gradi oltre, vediamo quando. Allora, al centro-nord temperature massime, massimi valori verranno raggiunti intorno all'8 di aprile, valori ovunque sopra 20 gradi, poi tra il 9 e il 10 scenderanno, tra l'11 e il 12 saliranno, ma tra il 15 e il 20 scenderanno definitivamente di 5 o 6 gradi. Invece al sud saliranno fino a oltre 25 gradi, fino al circa il 10-11 di aprile, poi tra il 15 e il 20 anche lì scenderanno bruscamente. Piogge? Piogge, gliele diamo le piogge. Ma sì, dai, vediamo anche… Speriamo in Sicilia, in Calabria. Ecco, bravo. Allora, piogge ci saranno poche, rovesci, il giorno 10, al nord e qualche rovescio nelle zone interne anche del centro, 10 e poi migliorerà. Ma tra il 15 e il 20 di aprile è prevista una nuova fase piovosa. Come diceva Elisa, speriamo che queste piogge arrivano anche al sud, soprattutto Sicilia, Calabria, Basilicata, che sono le regioni che hanno ricevuto meno piogge e in questo momento soffrono molto di siccità. Cari amici, vi stiamo pensando, cari amici del sud, e come vedete non è vero che non vi consideriamo, anzi in questo momento siete nei nostri pensieri, vero Elisa? Verissimo. Anche nei tuoi? Sempre. Si vedono? Sempre. Non si vedono i suoi pensieri, però ci sono, dentro ci sono. Pensa, pensa, anche Elisa pensa. Ciao. Ciao, ciao.